E' un debutto importante perché è la prima volta che affronto una distanza così lunga, quella della maratona. Sono venuto qui a Treviso perché credo sia una maratona veloce dove mi posso esprimere bene. Sarà una gara tranquilla all'inizio con un passaggio di 1.5-1.6 alla mezza dove mi porterà Ruggero Pertide che per me è una sicurezza e poi vedremo che cosa succederà nella seconda parte. Treviso è un percorso bello, scorrevole, veloce. Mi fa piacere che Stefano La Rosa abbia scelto questo tipo di gara dove può correre sicuramente bene. Io domani cercherò di stargli vicino, di guidarlo quello che può essere il ritmo e magari anche frenarlo perché ho capito che lui vuole correre forte. Però è giusto che nella prima parte stia tranquillo e segua un ritmo regolare per poi correre nella seconda parte. Sono abbastanza in forma, non mettiamo tanto le mani avanti perché comunque come si sa la maratona è una gara dura, può accadere di tutto. Però mi aspetto di fare una bella gara e confido nel tempo e se ci sono tutte le condizioni a posto sicuramente lotterò per fare anche un buon tempo. Grazie a tutti.